Stracchino free, che nient'altro è che la linea del penny market di prodotti senza lattosio. Non c'è scritto, eh, forse c'è scritto molto piccolo qua che è del penny. Comunque proviamolo perché è uno stracchino diverso da quello loro standard. Questo stracchino in particolare scade fra quattro giorni, quindi come sempre tradizionalmente lo andiamo a spacchettare e provarlo secondo i canonici parametri. La prima vaschetta, con poi un'altra incartatura. Ok, niente di particolare qui. Procediamo dunque. Già dal tagliarlo non ci siamo con la cremosità. Ho mangiato tocchi di cemento peggiori, la cremosità è 2. Sapidità? Anch'essa appena presente. 2. Per quanto riguarda la dolcezza e il sapore, la rotondità, anche se ho poco pervenuto. 2. 2 più 2 fa 6. No, 2 più 2 più 2 fa 6. E ciò pone lo stracchino abbastanza basso nella classifica. Detto, è commestibile, è mangiabile, è pur sempre stracchino. Ma a meno che non sia il lattosio il vostro problema, o sia l'ultimo stracchino rimasto, abbiamo visto stracchini migliori in questo canale. E anche l'ultimo stracchino.